Lui credeva, sembra un italiano, lui. Eric Ramaz ha 44 anni, campione unitica in carica, come abbiamo detto, con l'oro individuale conquistata a Pichino, con l'indimenticabile XT. Nonché attualmente il terzo nella Royal Rolex Pay Ranking List, la lista, appunto, la Ranking List internazionale. Ha partecipato a cinque campionati del mondo, la AIA, Roma, Heres, Haken e Lexington. Dove Lexington proprio nel 2010 è stato bronzo individuale. È un cavalliere molto esperto e anche sicuramente molto veloce, anche se nel percorso base, sarà uno dei percorsi sicuramente più veloce, ma perché lui tende sempre a fare delle opzioni sempre dentro di me, no? Vediamo la quale molto bene qua. Questa è una monta molto americana, sempre fluido. Anche vediamo qua per la triplice, stringe, va verso l'interno e vediamo l'interno si... prende l'opzione dei sei o sette tempi. Ok, prende l'opzione dei sei tempi. Uno spettacolo, vedere i cavallieri di Cristo, di Bello. Molto bene e anche molto veloce fino adesso. Un po' di surat perché non ci sono lì. Sì, ha avuto la difficoltà della porta. Sì. E qua l'opzione dei sette tempi, è un po' vicino, però morto. Prende l'opzione del corso. Prende l'opzione, spregnamento, il mercolico, 85 e 71. Bello, 75 e 71, che lo pone in prima posizione. In questo percorso base. Quindi saranno tre cavalieri che scenderanno in campo per il barrage, il 3-0 di questo percorso estremamente selettivo. che sono quindi Cristina Wilbert per la Zincera, Sharon Dugaldown per l'Olanda e è l'ultima massa per il campo. Ricordiamo che finora ci sono stati che al tempo di questo percorso il percorso è stato caratterizzato da ben 12 ritiri sui 42 binomi scesi in campo. Anzi, 40, perché la fletta della mazzone azzurra, Giulia Martineco, non è scesa in campo. E allora, in attesa del barrage, che il campo venga restito dal barrage, lanciamo la pubblicità, un minuto e quindi, e il presto momento, un minuto e mezzo, riconosceremo qui sul campo di salvezza.